Il gruppo Euticals ha l'obiettivo di diventare il più grande produttore di principi attivi nel settore farmaceutico. Euticals ha scelto SAP e la soluzione verticale HT4Pharma, dedicata alle aziende farmaceutiche e realizzata da HT, Business Partner IBM. Con SAP facciamo crescere la nostra azienda, incrementando l'integrazione e l'automazione. Grazie a SAP abbiamo migliorato la gestione commerciale, accorciando i tempi e il controllo del ciclo di vendita. Abbiamo sedi e stabilimenti in tutta Europa. Abbiamo acquisito aziende negli Stati Uniti e stiamo valutando investimenti nei paesi emergenti. SAP è il sistema giusto, perché ci supporta in tutti i paesi di nostro interesse. Nel nostro settore è fondamentale che il sistema sia validato nel rispetto delle normative vigenti FDA, GMP, CFR21. SAP consente una rapida ed economica validazione. Grazie a SAP possiamo individuare gli elementi, prodotti, mercati e tecnologie in cui realizzare margini e le aree in cui ridurre i costi. HT, Business Partner IBM, è il partner giusto per l'implementazione delle soluzioni SAP.